ciao a tutti oggi prepariamo un bel polpettone al forno con un ripieno davvero ricco per il polpettone userò un chilo di carne macinato di vitellone e se volete anche di vitella due uova olio sale e pepe prezzemolo tritato parmigiano e un po di pangrattato mentre per il ripieno fesa di tacchino arrosto se volete anche prosciutto cotto spinaci lessi 3 uova sode e del formaggio a pasta filante tagliato a fette fine così cominciamo col condire la carne a a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.